Buongiorno, sono Laura Anticchi e oggi vi parlerò di inventario. Nell'inventario ci sono tutte le nostre cose, i nostri materiali, tutti quelli che abbiamo raccolto e prodotto nella nostra esperienza virtuale. Come si apre l'inventario? O dalla valigetta e quindi andando in questa icona che ci trova nella barra in basso, apro l'inventario, oppure dal menu io, inventario. L'inventario è articolato in tre zone, tutti gli elementi che mi dà tutti gli elementi che in esso contenuti, gli elementi recenti e quelli, negli elementi recenti ora non c'è nulla, praticamente quelli indossati, tutti quelli che ho indossato. Vado in tutti gli elementi e vediamo di esplorare alcune cartelle interessanti. Una di queste è quella degli oggetti che contiene tutti gli oggetti che ho creato e che ho salvato. Chiudo la cartella oggetti, poi troviamo l'interessante cartella texture che contiene tutte le texture da noi salvate che ci sono state magari regalate o che abbiamo creato. texture, poi la cartella scripts con tutti i nostri script e poi abbiamo da tenere presente la cartella, beh, vabbè, poi abbiamo quella dei gesti, abbiamo la cartella dei suoni, tutti i nostri suoni, sempre tutte cose salvate, ma rilevante è la cartella My Suite Case perché in questa cartella abbiamo tutti gli elementi che abbiamo raccolto durante i nostri viaggi nelle altre grid, quindi nelle hypergrid, e adesso la apro, My Suite Case, vedete che è una serie di oggetti, praticamente è una copia dell'inventario, questa, e è importante, però, quando si ritorna dai tour nelle altre grid, copiare i contenuti che abbiamo raccolto durante il nostro viaggio nell'inventario principale, per non perdere gli oggetti e magari conviene cancellarli dalla My Suite Case perché se andiamo nelle altre grid leggeri, possiamo meglio salvare elementi nuovi e quindi costruire nuove raccolte di materiali. Un'altra interessante cartella che noi ritroviamo poi nell'inventario e che ci è sicuramente molto utile, è quella che riguarda, qui ho il cestino, lo chiudo, chiudo il cestino, cioè devo andare a chiudere tutti i vari elementi, è la cartella che riguarda i preferiti, quindi le location dei preferiti, e poi trovo la cartella, vedete quante cartelle trovo qui nella mia library e nella cartella segna posto, nella cartella segna posto ci sono tutte le location che ho salvato durante le mie esplorazioni e verso le quali voglio tornare facilmente. Ad esempio, voglio andare in Anitel, nel laboratorio Anitel, ho quindi salvato questa location, clicco due volte su Anitel, teleport e mi porta nel luogo desiderato e preferito questo. Posso ritornare anche a Craft, sempre agendo sull'inventario segna posto, vado ad esempio in Craft, in New Craft Store, un'altra location, teleport e mi porto quindi direttamente a questa zona che avevo salvato. Ora mi sposto leggermente, era per farvi vedere dove posso ad esempio andare, ok, anzi volo, aspettate che abbasso un attimo la casella dell'inventario, volo magari un'altra zona, qui, non dovrei avere qui fatto una location, firma volo, ok, sono arrivata, se io volessi a quindi segnarmi questo posto per ritornare qui, andrei in Mondo e a Crea segna posto qui, e qui mi da sempre in New Craft Store 2, mettiamo 2 oppure altre cose, potete comunque sempre mettere il titolo che sia anche significativo per voi, quindi vado in Salva, ok, quindi l'ho salvata col titolo The New Craft Store 2, e vedete che nei segna posti dei preferiti, sono nei preferiti, trovo The New Craft Store 2, ora posso ritornare in Hydra, ad esempio, Teleport, Teleport, e sono ritornata nel mio luogo principale, quindi avete visto che cosa accade con l'inventario e con proprio il segna posto. di interesse è anche la cartella annotazioni, perché qui abbiamo raccolto tutte le nostre note card, sia quelle da noi prodotte, che quelle che ci sono state date, quindi queste delle note card. Volevo dirvi che l'inventario può essere organizzato e ordinato, quindi chiudo le notazioni, ricorrendo all'icona più che trovate in basso, che ci permette di caricare delle immagini, da qui, vedete carica, immagine, suono, animazione, modello, in blocco, import link set, oppure di creare una nuova cartella, per poter quindi meglio unificare gli oggetti che abbiamo nell'inventario, ci permette di creare il più nuovo script, una nuova annotazione, quando voglio creare una nuova note card, un nuovo gesto, indumento, vedete tutti gli indumenti che posso creare, nuove parti del corpo, e new setting. Quindi da tenere presente questa possibilità di organizzare il contenuto copioso in cartelle, ed elementi dell'inventario, in modo da ritrovarli, questi, più facilmente. Ciao!